salve a tutti ragazzi sono master wallas carico 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 allora buongiorno ragazzi io come sempre che tu sia nuovo o meno io mi invito a guardare questo canale per avere informazione e chi non è iscritto a iscriversi immediatamente l'argomento di oggi è questo l'uferrigno ieri oggi e domani però una breve analisi di questo campione questo personaggio appunto guardando ieri oggi e domani anche dal punto di vista tecnico fisico in realtà nel passato già fatto un video su di lui anche sul personaggio di un comunque qui voglio dire alcune cose tecniche un po un po nuove allora innanzitutto io vi dico una cosa io ho sempre mirato l'uferrigno perché già l'epoca di arno mi ricordo io vedevo che la gente capiva che era l'unico che poteva tenere testa ad arnold in poche parole era più alto era più pesante insomma sembrava davvero che doveva essere colui che poteva battere arnold questo non è mai avvenuto ovviamente un po anche tecnicamente perché comunque per superare anche la bellezza muscolare di arnold era difficile ma anche per motivi tecnici perché poi lui stesso ha avuto delle carenze insomma non è questo il punto diciamo che come carriera agonistica lui il suo successo l'ha avuto proprio come come principale concorrente di arnold anche se di suo vince un universo che sono mi sbaglio a verona in italia bis e mi sembra sono andato di morbi su un mister universo un mister universo che era anche definitissimo non enorme però definitissimo e vedete a me è rimasto impresso una scena vado così un po abbraccio a mente le cose che mi hanno impressionato guardando il film pump in iron c'era una famosa scena dove loro dovevano andare alla palazzetto a far la gara e salirono sul pulma e ma l'altro la trovate youtube secondo me arnold e l'uferino si si è detto in fondo alla al bus i sedili gli ultimi sedili e si mettevano un po così a scherzare no e allora se appunto anno si è seduto un po più alto di lui lui ha fatto la stessa cosa ha fatto un po giochetto di chi è dei più alti più grosso praticamente anche stato abbastanza divertente poi c'è anche l'aneddoto dove si dice che arnold era anche molto bravo a a smontare psicologicamente gli avversari ancora prima della gara si dice anche che sempre quel contesto lì più o meno gli dissi guardando i polpacci di luferigno che non c'erano purtroppo era molto molto carente e non c'erano ancora gli impianti di sintio eccetera eccetera tra l'altro lui avendo anche l'attaccatura alta con la tibia lunga anche se mettevi sintio c'era poco da fare allora arnold che invece aveva dei bei polpacci guardando i polpacci di lui gli disse e lui ma i polpacci li hai lasciati a new york perché gareggiavano in sud africa quindi quando gli si sta cosa hai lasciato i polpacci a new york come per dire non hai polpacci sul pacco hai già perso ecco no questi sono così episodi un po particolari ma c'è da dire che comunque l'uferigno più che altro la sua grande notorietà l'ha raggiunta quando interpretato il personaggio di hulk la famosa serie televisiva dove lui appunto faceva hulk con questa però con i testa di capelli trucco un po pesante in faccia e tutto colorato di verde insomma è stata una serie veramente epica che all'epoca piaceva tantissimo ai ragazzi io guardavo tutte le puntate assolutamente poi tra l'altro lui faceva hulk ma l'attore principale era billy bixby un bravissimo attore molto bravo anche simpatico purtroppo poi morì per un tumore al fegato e praticamente ogni volta che si guardavano queste puntate include include la puntata era sempre quella il povero billy bixby era uno un scienziato bruce banner era un buon accione sempre tranquillo si cacciava sistematicamente nei guai non si sa perché era sempre mezzi guai no e quando erano mezzi guai o lo picchiavano pestavano nel pericolo diviso a questo punto gli occhi diventavano limitavano verdi e avveniva la trasformazione quello del momento clou del di tutte le puntate cioè la gente aspettava solo quello no e quindi era fortissimo anche perché in genere quando si trasformava non è che lo faceva di fronte a tutti a quelli che l'avevano aggredito in genere lo cacciavano detto sgabuzzino lo pestano buttano da qualche parte non si vedeva la trasformazione in genere si sentiva solamente un mugugno e questi c'è che cosa sta accadendo e poi dopo saltava fuori insomma era incredibile anche era anche incredibile come faceva perché tutti gli abiti mentre lui si trasformava si strappavano tutti tranne i calzoni che i calzoni gli stavano sempre addosso sia quando era uc sia quando era uc i calzoni quantomeno rimanevano sempre vabbè se ci pensate un po un po sul e quindi era fortissima sta cosa ovviamente come disse anche un altro video dove parlavo di uc fatto da lui ferrigno erano episodi abbastanza bonari e abbastanza tranquilli perché riguardavano i ragazzini i bambini la violenza che c'era era molto molto soft ho sempre detto che lì uc non è mai stato cattivo i cattivoni scagnosti della situazione cattivoni in genere gli faceva fare un volo nella stanza lo prendeva lo tirava non ha mai picchiato nessuno ha mai ucciso nessuno era un nucleo così abbastanza a lui facevano di tutto gli tiravano aggeggi addosso lo colpivano più di tanto non sentiva però quello prendeva e via lo tirava un bel volo questo che volava cascava in genere mezzo scatoloni tra l'altro quindi un molto bonario molto ok quindi bellissimo e quindi lui ha raggiunto la notorietà con queste serie tv poi certamente ha fatto anche del fatto anche dei film non è mai diventato un attore di prima grandezza come arnold si proprio vogliano dire tutto ha fatto tanti ruoli questo sì ma non è che sia poi emerso moltissimo come attore però ha lavorato tantissimo è lavorato tantissimo poi ha fatto tante attività il settore anche del fitness delle attrezzature nei spettacoli ha fatto comparso un po destra e sinistra insomma è uno che si è sempre dato da fare nella vita il suo successo l'ha anche avuto neanche giusto poi ha avuto tre figli da una donna dalla seconda moglie mi sembra ha avuto tre figli quindi sicuramente ha fatto una vita come dire una bella vita piena e quindi siamo contenti per lui venendo un attimo adesso dal lato tecnico io vi voglio dire questo nella foto che vedete in copertina ci sono le tre fasi di luffi a rignolo in gara è una foto sembra abbastanza recente che poi vi vorrei parlare anche di questa foto qui del suo stato attuale fisico ovviamente nella nella prima foto dove lui si vede luffi a rignolo in gara lì era il top della muscolatura la definizione era grosso definito e lì era anche il top come assunzione di topping quindi prendiamoci chiaro non è un segreto che anche lui come ardo come arnold e tutti gli altri misteri tutti prendevano ovviamente e quello è e lì veramente era il top come forma fisica quando girava Hulk ovviamente non era in forma da gara ovviamente lì quello che contava è che fosse imponente grosso non definito non definitissimo chiaramente non era grasso e però non è neanche definito io adesso avere questi volumi in quanto poi colorato di verde doveva dare l'impressione di questa tratto lui essendo molto alto insomma che era un 92 credo se non di più 96 comunque era molto alto per cui uno molto alto con quell'imponenza fisica è chiaro che con quella stazza dava l'idea proprio di Hulk no per cui lì l'assunzione che faceva era non certo un'assunzione come quella da gara era un'assunzione tesa a mantenere un po così la grossesse di volumi come ha fatto spesso anche arnold in certi film dove si assumeva ma non era poi così enorme quindi era un doping da film mettiamola così e per cui la forma era quella cioè grosso non eccessivamente però grosso ma non non molto qualitativo ecco era una forma da Hulk quindi c'era la forma di lui ferrino da gara la forma da Hulk e poi veniamo alla sua forma attuale almeno pare perché questa foto mi sembra abbastanza recente ecco così poi tra l'altro di questa foto qui ci sono anche altri ho visto anche altre foto ho preso questa perché era la più completa era senza maglietta in altre in altre foto tira solo maglietta per fargli l'addome qui invece anche senza maglietta allora la prima cosa che siamo che si notte questa che la muscolatura è praticamente sparita c'è da dire che lui perché uno diceva però lui adesso mi sembra che 72 anni 71 quindi quella foto questa foto qui diciamo che era sui 70 anni o poco più insomma unice vabbè però insomma a quell'età lì sì certo capisco l'età però c'è veramente la muscolatura è letteralmente sparita a me sembra strano che uno che quantomeno ha continuato a allenarsi o che abbia o quantomeno se uno continuava a allenarsi a mio avviso qualcosa di più doveva comunque mantenere perché proprio non c'è più traccia di niente e questo già vi fa da pensare anche perché questo ci fa capire attenzione questa cosa qua lui avendo smesso molto tempo fa l'assunzione e probabilmente non ha tirato a dritto con dosaggi altissimi come fanno oggi i folli attuali i folli attuali di oggi che ti erano dritto per anni con dosaggi altissimi credo che lui secondo me quantomeno credo è la mia opinione credo che lui di trt non abbia mai fatte o perlomeno questa foto non sembra non c'è l'idea che faccia una trt perché in genere chi la fa di questa gente qui fanno TRT abbastanza pesanti che rimangono abbastanza abbastanza grossi ma non perché sono naturalmente così è perché c'è comunque il sostegno del testosterone ma in dosi abbastanza alte mi sembra che lui non rientri in questa categoria secondo me non sta prendendo niente o se ha messo che prenda qualcosa probabilmente sono dosaggi minimali proprio terapeutici da vera TRT perché la vera TRT sono molto bassi sono fisiologici e TRT che fanno gli ex campioni ingegnero gli ex bombaroli che vedete in giro che mandano grossi non sono neanche TRT quelli che continuano a bombarsi il testosterone le chiamano TRT ma continuano a buttarsi dentro il testosterone come come caramelle ecco per cui comunque quello che si nota è che la muscolatura non c'è cioè ha un certo tono generale ma i volumi sono veramente minimali proprio impressionante vedere il cambiamento proprio che a mio avviso uno dice ma è normale questa cosa no secondo me non è normale nel senso che uno anche con l'età lì può benissimo essere messo meglio secondo me e ci sono anche esempi di gente messa meglio anche natural messo in meglio di lui veri natural attenzione si nota che comunque è rimasto magro ok non si è ingrassato e questo è altamente positivo perché spesso si vedono ex campioni che si sono imbolsiti ingrassati ci sono anche foto di Arnold dove l'ha ripreso che non era proprio veramente in forma aveva anche un po' di pancia per cui il fatto che lui è rimasto magro perché l'ho visto anche in altre foto un po' meno recenti ma comunque è sempre rimasto magro probabilmente è anche una sua caratteristica secondo me perché già da ragazzo era un ragazzo magrissimo dopo vabbè diciamo Peter quello che ha fatto ma credo che lui abbia di suo questa sua magrezza però ho anche letto che lui quantomeno cura molti cibo ha detto che non esagera mai si controlla e questo è bisogno di agli atto che se è così va benissimo oltretutto tenete conto cioè pensate a sta cosa qua lui comunque la sua carriera sportiva l'ha fatta e il suo doping l'ha anche preso anche se non come i campioni di oggi quindi con meno dosaggi e per meno tempo però comunque è arrivato a 70 anni e passa in salute adesso a parte i problemi all'udito che ha avuto che è ma quello non c'entra niente che è stato operato insomma sembra che sia arrivato quell'età lì in salute cioè non ha avuto eventi cardiovascolari non ha avuto problematiche per cui se ne sa gravissime di tipo colema e quindi questo è importante cioè la cosa bella è questa che a quest'età lì è ancora vivo mentre molti altri sono morti della sua generazione e soprattutto sembra ancora in salute ed è magro quindi questo è positivo noi siamo contenti per lui ovviamente eccetera mancanza di muscolatura impressionante e qui resta da capire se quantomeno si allena o come si allena certo che se si allena come ho visto fare in un video che fa delle cosine da fitness se ridicole non è che li puoi mantenere un minimo di massa magra cioè sono cose che in questo senso di non servono a niente forse a lui interessa solo il tono muscolare e la magrezza ok va bene mettiamola così no però questo per fargli capire che anche un ex mister olimpia sul fisico non è che poi alla fine no perché è stato un ex mister olimpia questo non significa niente non vuol dire che sappia veramente fare quel minimo che serve per mantenere un qualcosa di minimale perché lì non c'è proprio quindi può darsi che sia una sua scelta ma io vedo anche tanti ex professionisti che li vedi allenarsi non sa minimamente allenarsi proprio non hanno la minima idea tecnicamente quindi vabbè comunque ho già detto queste cose varie volte allora ecco vi dico una cosa sull'addome che ha perché effettivamente ha un bel addome cioè è molto piatto è molto magro non ha una muscolatura addominale evidente proprio per il fatto che secondo me non non si allena in modo abbastanza intensivo però è molto piatto è molto persente di grasso in modo totale la cosa però qui che io ho quest'idea ma mi potrei sbagliare siccome anche il fatto stesso della pelle che è molto tirata diciamo per la sua età è messo bene in genere a quell'età è più decadente posso avere l'idea che ha fatto una lipospirazione con con un'estetica con un intervento dal punto di vista estetico sulla sulla pelle secondo me perché ci sono questi interventi che fanno lipospirazione quindi cavano tutto il grasso e poi fanno lavorano per dentro per tirare la pelle ci sono delle tecniche in genere li fanno degli ex obesi cioè gli ex obesi lì addirittura tagliano proprio pan tagli a tutte le parti non so se vi ricordate episodi che li ha visti del dottor Nostra Dain con i grandi obesi a 300 kg no? quando dimagrivano moltissimo avevano dei chili di pelle addosso, pochi chili eh e per cavare tutto quell'eccesso di pelle intervenivano chirurgicamente e tagliavano da tutte le parti questi qui poi alla fine erano impressionanti perché sì l'eccesso di pelle era stato cavato ma aveva un taglio dappertutto cioè era abbastanza impressionante vabbè comunque ecco io no la liposcultura della pelle che si fa in genere non sono questi interventi qui sono meno invasivi però ripeto quell'addome lì mi dà l'idea di un addome che non è non è di un settantenne mi sembra un po' troppo piatto un po' troppo ma che come pelle troppo tirate può darsi è la mia idea ma può parlarsi che mi sbaglio ma ci potrebbe essere stata una lipospirazione anche con liposcultura si chiama così liposcultura addominale che se anche l'avesse fatto nulla di male voglio dire se il risultato estetico è quello ok d'altra parte se un c'è anche la possibilità di farlo però ho questa idea qui per il resto vi confermo la mia idea che vedete veramente nelle tre foto il passaggio dal top della forma in ringara che in maniera grosso sempre col doppio grosso ma non definito poi abbiamo stato attuale cioè non c'è più muscolatura molto magro comunque insomma un aspetto diciamo buono per un settantenne e ci mancherebbe se guardate la media della gente anche molto più giovani sapete che cosa voglio intendere come sommessi e quindi poi soprattutto in salute è questo che è la cosa importante è in salute e noi gli auguriamo di rimanere in salute perché noi gli auguriamo davvero e questo ci deve far riflettere un po' invece sulle follie di oggi quello che fanno oggi i campioni le scelleratezze le follie che fanno e che purtroppo vengono ammirati per questo il problema è questo qui e quindi non verrà mai detto abbastanza di quanto oggi il culturismo sia folle lo è sempre stato di suo fin dagli anni settanta nel momento che il culturismo è diventato sinonimo di doping quello è ma oggi più che mai abbiamo visto come sono le situazioni e quindi questa cosa ci fa sempre riflettere comunque noi auguriamo l'ufferigno di rimanere in salute per tanto tanto tempo e lo siamo felici per lui vi ringrazio di tutto e vi aspettiamo con noi per chi vuole venire nel vero culturismo natura senza rimanere nella mediocrità è questo che noi dobbiamo fare andare oltre come fatto master ok grazie a tutti al top